Rispondo a questa domanda. Il Cristo dice, in quella notte due saranno in un letto, uno verrà preso e l'altro lasciato. Due donne si troveranno a macinare insieme il grano, una sarà presa e l'altra lasciata. Due uomini si troveranno nei campi, uno sarà preso e l'altro lasciato. I discepoli allora gli dicono, dove signore? E gli disse loro, dove sarà il cadavere? Là si raduneranno anche le aquile. Puoi spiegare questo passo? Il discorso fatto in forma esemplare di esempio da Gesù rimanda in un certo senso a quella che per gli uomini è la casualità e invece per l'uomo che crede che è Dio che fa tutto, casualità non è possibile perché se Dio fa tutto non c'è nemmeno un atomo nella sua peregrinazione, diciamo, nell'universo che possa andare a caso. Tutto è disegnato fino all'ultima, ultima, ultima possibile aggregazione in forma di corpo. Nel nostro mondo reale invece noi riteniamo che esista il caso e che tutto spesso sia legato al calcolo delle probabilità che esiste quando si va al casino a giocare alla roulette e si punta sul rosso, nero, pari o dispari. Insomma sulle percentuali che esistono al 50%. Sembra che sia così e quando è la resa dei conti finale, proprio in questo mondo in cui la casualità vera è tra il sì e il no, l'essere in positivo e l'essere in negativo. Accadrà che, poiché il negativo e il positivo vanno sparsi ovunque, ce n'è nella media, quel valore poi che è il valore vero, che uno è un evento positivo, l'altro è un evento negativo. Alla resa dei conti in termini probabilistici si arriva dopo un quantitativo di esperimenti talmente alto che le probabilità tra un esito e quello opposto sono talmente identiche che su miliardi e miliardi di tentativi siamo prossimi al 50% assoluto. Perché se non esiste alcuna probabilità maggiore dell'altra, allora accade proprio così che uno è preso, l'altro no. Quando Gesù tira in ballo questo racconto lo fa quando gli chiedono della fine del tempo e Gesù parla che Gerusalemme sarà devastata secondo il Vangelo di Luca e chi è fuori città non vada in città, chi è così non lo faccia perché è la resa dei conti ecco è allora soprattutto che fa questo bilancio, un bilancio che è giusto alla fine dei conti. Il bilancio alla fine dei conti è sempre giusto quando esistono due possibilità perché alla fine dei conti si sono espletate tutte quante le possibilità e quando tutte quante le possibilità sono proprio tra il rosso e il nero tra i pari e i dispari o tra il bene e il male o tra la vita e la morte si vedrà che sono divise in maniera identica. Ecco, questa è la condizione della fine dei tempi quando il conto finalmente si bilancia in modo esatto e in modo perfetto. ma la domanda precisa è questa dove sarà il cadavere? là si raduneranno anche le aquile cosa significa? significa che proprio per la presenza di tutto nel valore esatto avremo messi insieme proprio causa e effetto e cadaveri e aquile cioè è la resa dei conti siamo alla resa dei conti quando accadono cose così perché la divisione è compiuta in modo perfetto e a quel punto è possibile vedere che ciò che noi giudichiamo positivo e ciò che giudichiamo negativo sono proprio esistenti nello stesso valore di quel 50% ecco, la fine dei conti è la fine della perfezione del conteggio perché se noi per esempio dobbiamo eseguire una divisione di 100 mele tra 100 bambini e sappiamo già dal risultato che 100 diviso 100 uguale 1 e conosciamo dunque che dobbiamo dare una mela a ogni bambino poiché ogni volta dobbiamo dare una mela noi potremmo fare questa divisione e terminarla solo dopo 100 atti singoli in cui diamo una mela a ogni bambino finché non abbiamo finito la divisione non c'è giustizia perché nel primo momento della divisione c'è un solo bambino che riceve una mela e addirittura 99 che non la ricevono quando siamo arrivati al penultimo atto della divisione la condizione è proprio tutta al contrario hanno ricevuto la mela 99 bambini e uno solo non l'ha ricevuta ma che ingiustizia ecco, la giustizia arriva nell'ultimo momento quando anche quell'ultima mela è data a quell'ultimo bambino che ancora non l'ha ricevuta poiché il nostro mondo è nel conteggio di una divisione e la divisione è perfetta quando è completato il ciclo della divisione noi possiamo contare su una vera giustizia in termini delle cose in bene o in male che ci sono state date perché avremo la giustizia di una uguaglianza perfetta tra il bene e il male che ciascuno di noi avrà ricevuto e tutto questo equiparerà tutte le differenze che appaiono nel primo momento perché nella prima vita che noi abbiamo che è questa ci è dato quello che ci è dato a seconda che tra quei cento bambini noi siamo quell'unico che la riceve subito noi potremmo ritenerci fortunati perché abbiamo ricevuto quella mela e gli altri no e dire il beato sono io ma se io l'ho ricevuta ora non la riceverò più e nel tempo del tempo la riceveranno sempre tutti gli altri saranno gli altri i beati e non io che l'ho ricevuta troppo presto tanto che quel bene che ho ricevuto resta lì lontano lontano nel tempo magari solo nei primi attimi della mia personale vita ed è stato un bacio che mi ha dato mia madre poi per il resto di tutta la mia vita io avrò solo negazioni, negazioni, negazioni ecco se io avrò queste negazioni, negazioni, negazioni mi sentirò trattato ingiustamente ma in effetti così non è perché quando la situazione si inverte allora si mettono in atto le condizioni della giustizia perché si compie il ciclo e arrivando al ciclo intero della divisione e non solo a quella metà che è mezzo ciclo e che nel ciclo della vita umana è collocato nel punto della morte e nasconde l'altro ciclo che ci riconduce all'inizio noi potremmo arrivare a dire che nel primo tempo della nostra vita io sono stato trattato ingiustamente perché ho avuto pochissime cose ecco nel ciclo opposto oltre quel calare del sole in cui il sole poi splenderà splenderà in tutto quel luogo in cui non ha brillato ora quella luce che io non ho ricevuto ora la riceverò dopo perché nel ciclo intero tutto sarà giusto e noi possiamo contare su un dio di giustizia anche se solo nel breve volgere solo di un mezzo del ciclo della vita sembrerà che vi sia stata totale ingiustizia nella ripartizione tra le cose belle e le cose brutte e le cose brutte che che